Musica Secondo le previsioni meteo del weekend sarà un fine settimana con l'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico, quello di sabato 10 e domenica 11 aprile. Da domani, sabato 10 aprile, gli effetti della massa d'aria calda di origine africana si farà sentire pienamente su tutto il sud, dove le temperature potranno raggiungere anche i 20 gradi, mentre le regioni settentrionali dovranno fare i conti con l'avvicinamento progressivo di una nuova perturbazione atlantica, che porterà un deciso peggioramento del tempo con un nuovo abbassamento delle temperature e che caratterizzerà anche il meteo della prossima settimana. Per domani avremo così fin dal mattino forti piogge sul nord-ovest, in particolare sulla Liguria, poi nel corso del giorno il maltempo investirà progressivamente anche le altre regioni settentrionali, per interessare infine in serata anche alcune regioni centrali a partire dalla Toscana, ma in estensione anche a Umbria, Marche e anche Lazio. Musica 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 Grazie a tutti.